Ci troviamo in Via Le Campagne dove abitualmente ogni mercoledì si tiene il mercatino settimanale. Chi è abituato a frequentare questa zona in questo giorno della settimana, ma in generale i mercatini, si sarà accorto subito che c'è qualcosa di diverso. Che cosa è successo? A seguito del decreto del Premier Giuseppe Conte, restano aperti sì i supermercati, ma discorso a parte va fatto per i mercatini settimanali. Infatti questa mattina qualche venditore ha montato il proprio stand, ma alle sette e mezza è arrivata la polizia municipale che ha fatto smontare loro tutto. Va sottolineato che nessuno di loro si è lamentato per quanto gli è stato detto dalla polizia municipale, giusto il tempo di smontare gli stand e sono andati via. Infatti come potete vedere alle mie spalle, anche dalle immagini, la strada praticamente adesso è priva di bancarelle e a poco a poco viene anche riaperta al regolare traffico. Ma che cosa è successo? C'è stato probabilmente un piccolo difetto di comunicazione. Alcuni venditori erano andati regolarmente a rifornirsi questa mattina e quindi poi sono venuti come tutti i mercoledì a montare il proprio stand. Poi è arrivata in seguito questa precisazione e quindi a partire da oggi non ci saranno più i mercatini settimanali. Ancora resta da chiedere.